benvenuti alla quarta puntata della visita dedicata alla basilica di san giovanni in laterano in quella precedente abbiamo visitato le pareti della navata centrale il transetto e l'abside oggi invece andremo ad ammirare le belle cappelle e numerosi monumenti posti nelle quattro navate laterali abbiamo visto parlando delle varie fasi della basilica come borromini oltre a modificare la navata centrale avesse trasformato in maniera profonda le navate laterali della basilica e come aveva inglobato le colonne della navata principale dentro dei pilastri e così fece altrettanto con l'altra fila di colonne esterne realizzando due eleganti navatelle queste sono caratterizzate da soffitti differenti quella intermedia presenta eleganti volte a vela decorate con una corona d'alloro e con angioletti dalle ali spiegate alternate a volte a botte quella laterale invece alle volte divise da archidravi incentiliti da teste di cherubini il borromini poi ideò un pavimento prospettico che diede ulteriore profondità alle stesse navate inoltre egli dette nuova luce alle navate stesse aprendo nuove finestre nei muri esterni ma ora iniziamo la nostra visita partendo dal lato destro della basilica e in particolare dalla navata laterale esterna su questo lato si apre una serie di cappelle appartenenti ad alcune delle più importanti famiglie nobili romane come massimo i torlonia e gli orsini procediamo con ordine lungo la navata partendo dal suo inizio proprio qui troviamo la parte interna della porta santa essa porta in alta un basso rilievo con dio padre tra le nuvole insieme agli angeli e lo stemma del papa alessandro ii mochigi sulla perete accanto vediamo la tumba di paolo mellini un degno cittadino romano morto di peste nel 1527 monumento dedicato alla dolce moglie come si legge nella grande iscrizione posta sotto la faiura giacente del defunto più in alto vediamo una madonna con il bambino il crucifisso purtroppo molto rovinata procedendo troviamo la cappella dedicata santa maria assunta appartenente alla famiglia orsini realizzata nel 1729 gli orsini sono tra più antiche famiglie nobili di roma legati profondamente al papato e i suoi membri godono del titolo di principi romani alla famiglia orsini sono appartenuti ben tre papi celestino terzo niccolò terzo e benedetto tredicesimo sull'altare vediamo bellissimo affresco con l'immacolata concezione del pittore romano placido costanzi tra questa e la cappella successiva si trova la tomba del cardinale giulio acquaviva nato nel 1546 dalla nobile famiglia napoletana degli acquaviva d'aragona egli svolse con successo delicate missioni diplomatiche in spagna presso filippo secondo per pio quinto che lo elevò al rango di cardinale nel 1570 durante il suo breve cardinalato a roma ebbe a suo servizio forse per pochi mesi miguel servantes l'autore della famosa opera don crisciotto della mancia morì il 21 luglio 1754 all'età di 28 anni la tomba al centro l'epigrafe dedicatoria sovrastata dallo stemma degli acquaviva di aragona sui lati vediamo le statue della prudenza della temperanza provenienti da una più antica tomba in questa basilica equiposte dal pordomini segue la cappella tolonia una delle ultime cappelle gentilizze romane realizzata tra il 1830 e il 1850 dall'architetto quintialiano raimondi ci accoglie una preziosa cancellata davanti a noi sull'attare la bellissima deposizione di cristo una pala marmorea opera di pietro tenerani sulla perata destra la tomba di giovanni raimondo tolonia il fondatore della casata creato principe dal papa più settimo nel 1814 le allegorie poste ai lati del suo sarcofago la carità e il commercio ricordano l'impegno del principe in questi campi a sinistra la tomba di anna scuteis roto orlonia moglie di giovanni tolonia la statua della bontà che la affianca la ricorda come ispiratrice delle opere caritatevole dei tolonia proseguendo della navatta troviamo sopra una finestra grata aperta nella parete una nicchia con un rilievo dedicato a san giacomo maggiore parte di un altare dedicato ai santi giacomo giovanni battista e giovanni evangelista ormai scomparso entriamo ora nella cappella dedicata al santissimo crocefisso dal 1564 patronato della famiglia massimo una storica famiglia di roma che ebbe nel 1826 da leone dodicesimo il titolo dei principi la cappella fu progettata da giacomo della porta altare un'intensa crocefissione di girolamo sicciolante da sermoneta del 1573 sulla parete di sinistra è la tomba di domenico massimo affiancata da due tele con i santi pietro e paolo sulle pareti accanto all'altare sono state inserite recentemente una copia della madonna di cesto cova e un'icona dedicata al santissimo salvatore sulla parete di destra e una tela del cavaliere d'arpino dedicato all'apostolo giovanni in vecchiaia contornato dai discepoli uscendo della cappella a sinistra incontriamo il bel monumento funebre del cardinal cesare rasponi il grande storico dell'arci basilica bartelanense che come segretario della congregazione per la salute sotto papa alessandro settimo si impegnò attivamente durante le videorie di peste che afflisse roma nel 1656 morto nel 1675 all'età di circa 60 anni fu qui sepolto accanto alla madre una profonda nicchia al centro accogli la stata di un impegnato in un raccolto di grano e di uva e che sostiene un tondo con l'immagine del cardinale un angelo sovraste il tutto sulla sinistra la lapide dedicatore del cardinale sulla destra quella della madre la tomba e opera di filippo carcani a seguire incontriamo una grande porta commissionata da innocenzo decimo al borromini al fine di mettere in comunicazione la basilica con il palazzo lateranense la sovrasta l'immagine del papa innocenzo decimo fancili sul lato sinistro della stessa è stato collegato il solenne busto marmorio del cardinale pietro gasparri segretario di stato di più undicesimo e figura di spicco nella chiusura della questione romana tra la santa sede e il regno d'italia firmata nel palazzo apostolico lateranense l'11 febbraio 1929 l'opera è di enrico tadolini e del 1941 seguendo ecco il monumento del cardinal giussano della nobile famiglia lombarda dei cassati esperto di diritto canonico prescelto da papa martino iv come uditore della sacra rota e creato da lui cardinale e morta a roma nel 1287 anche in questa sepoltura intervenne il berromini che ricompose gli antichi mosaici bassorilievi gotici realizzati da deodato di cosmo e giovane operante a roma a cavallo della fine del 200 in una cornice mormorea ornata da quattro cariatidi nel bassorilievo al centro il giussano e rappresentata accompagnato da giovanni battista nell'offerta al salvatore di un modellino di un edificio sacro ai piedi l'epigrafe dedicata al cardinale l'antigua capellina è dedicata a san giovanni evangelista e a suo tempo sotto il patronato della nobile famiglia inghirami di volterra sulla parete d'altare il grande fresco affigurante la visione della beata vergine maria da parte di san giovanni nell'isola di patnos opera di lazzaro baldi l'ultimo monumento di questa navata prima del transetto e la tomba di martinez chavez cardinale del portogallo morto nel 1447 anche qui il berromini scompose l'antico monumento rinascimentale lo ricompose in forma di tabernacolo barocco l'antico sarcofago l'epigrafe sostiene la figura del cardinale giacente lo circondano al centro la madonna affiancata dalla fede e dalla carità ai lati le virtù della prudenza e della temperanza l'opera è stata attribuita da alcuni al fila rete altri ad asia da pisa visitiamo ora la navata intermedia a destra risalendo dal transetto verso l'ingresso il primo monumento appoggiato al pilastro di destra è quello del cardinale rannuccio farnese attribuito al vignola l'ipote di papa paolo terzo e arciprete dell'arci basilica è ricordato anche come un grande mecenate e uomo di grande rettitudine il cardinale carlo borromeo lo celebrò per la sua sapienza e la sua carità in alto lo stemma della famiglia farnese affiancato da due allegoria in stucco della fede e della prudenza opera del valsoldo a seguire sempre sullo stesso lato si erge il sepolcro di papa sergio iv il suo busto in basso rilievo è inserito in una ghirlanda di stelle non abbiamo molte notizie storiche su questo papa ma sappiamo che fece grandi sforzi per alleviare la carestia roma nel suo tempo importante è anche una sua bolla datata a 1010 che chiedeva la cacciata dell'islam dalla terra santa infatti l'anno precedente nel 1009 il califo achim aveva saccheggiato i luoghi di culto dei cristiani e distrutto la basilica del santo sepolcro a gerusalemme l'oltraggio a questo luogo sacro ai cristiani sarà una delle cause ufficiali per cui si invocherà 86 anni più tardi nel 1096 la prima cruciata sul pilastro successivo si trova il monumento funebili alessandro terzo bandinelli nato a siena nel 1159 fondatore della lega gombarda contro l'imperatore federico barbarossa esso fu fatta erigere diversi secoli dopo nel 1660 d'alessandro settimo nel marzo 1179 alessandro tenne il terzo concilio laterano nel quale fu deciso la norma tuttora in vigore che richiede che nessuno possa essere eletto papa senza il voto di almeno due terzi dei cardinali inserite in un tabernacolo con preziosi colonne al centro vediamo un'ampia epigrafe realizzata sul marmo nero su cui è posta l'immagine del papa opera di domenico guidi a seguire troviamo il cenotafio di papa silvestro secondo al secolo gerberto doria il primo papa francese antifice che traghettò roma e il mondo cristiano attraverso lo spartiacque dell'anno 1000 questo papa grande studioso di scienze naturali e di astronomia ebbe nel medioevo la fama non meritata di mago e astrologo e la sua sepoltura ha avuto una lunga e particolare storia inizialmente era vicina all'ingresso della basilica e varie leggende sorsero intorno ad esse tra i quali quella di profetizzare attraverso suoni e segni la prossima scomparsa di un papa regnante nel 1684 papa innocenzo undecimo ordinò un'ispezione dell'antica tomba e il corpo di silvestro secondo fu trovato ancora lì intatto ma non appena entrato in contatto con l'aria si dissolse di colpo in seguito per conservare la memoria di questo papa fu realizzato il presente cenotafio recuperando l'antica epigrafe funebre posta sull'antica tomba il basso rilievo che oggi posto sul monumento è stato donato dagli ungheresi nel 1909 a ricordo della corona inviata da silvestro secondo al duco stefano in occasione della sua incolonazione re avvenuta nel 1001 sull'ultimo dei pirastri di questa navata intermedia possiamo ammirare un famoso frammento di un affresco attribuito a giotto di bondone uno dei grandi maestri della pittura italiana duecentesca originariamente esso faceva parte di una grande decorazione dell'antica loggia delle benedizioni fatta erigere da bonifacio ottavo nel patriarchivo da questa loggia la tradizione vuole che sia stato indetto il primo giubileo del 1300 e durante i lavori di papa assisto quinto tale logia fu distrutta e trasferita dove si trova oggi al termine del transetto destro il frammento inizialmente trasferito nel chiostro alla fine del diciottesimo secolo fu definitivamente collegato all'interno della basilica la fresco raffigura papa bonifacio ottavo sotto una struttura architettonica vestito con le solenne vesti pontificali con il manto purpureo e la tiara affincato da due figure gli ecclesiastici di cui uno regge un cartiglio il tema di questo frammento superstite è stato oggetto di varie interpretazioni alcuni riconoscono qui la presa di possesso del laterano avvenuta nel 1295 da parte di bonifacio ottavo e il personaggio sulla destra sarebbe celestino quinto predecessore di bonifacio che rinunciò alla dignità papale per dedicarsi alla vita contemplativa un'altra tesi invece sostiene che la fresco rappresenterebbe proprio un'indizione del primo giubileo riprendiamo il nostro cammino visitando l'ala sinistra della basilica partendo dalla navata laterale esterna anche su questa si affacciano alcune cappelle di nobile famiglie come i corsini gli antonelli e l'ancellotti proprio sulla parete vicino alla porta d'ingresso vediamo la tomba di riccardo degli annibaldi della molara il monumento sepulclare originale fu opera di anolfo di cambio purtroppo alla statua giacente sono stati aggiunti nel settecento elementi particolari e poco ricorrenti come il teschio con barba sul montato da un serpente con le fauci aperte proseguendo nella navata incontriamo una delle più belle cappelle della basilica quella della famiglia corsini fatta costruire da papa clemente xii in onore del suo antenato sant'andrea corsini il papa ne affidò la pregettazione nel 1734 ad alessandro galilei architetto al quale era stata affidata anche la realizzazione della nuova facciata della basilica passato il prezioso cancello istoriato da stemmi papali e da angeli con la tiara la cappella già appare in tutta la sua bellezza sull'altare in fondo e posta fra due colonne di verde antico una copia in mosaico del quadro dedicato a sant'andrea corsini di guidoreni sant'andrea corsini vissuto nel 1300 appartenente all'ordine carmelitano fu vescovo di fiesole e inviato da papa urbano quinto come legato pontificio a bologna dove si dedicò alla pacificazione delle fazioni cittadine lotte fra loro la tradizione vuole che il santo portasse fiorentini alla vittoria durante la battaglia di anghiari nel 1441 contro le forze milanese dei risconti beatificato da eugenio iv nel 1440 fu santificato da urbano ottavo il 22 aprile 1629 in alto sopra l'altare il basso rilievo che ricorda l'intervento del santo nella battaglia di anghiari nella nicchia di sinistra il solenne monumento funebre a clemente xII le cui spoglie sono deposte nel luna di porfido sul quale troneggia una tiara impreziosita da un cuscino di marmo orientale la grande statua bronza del papa opera di giovanni battista maini raffigura il pontefice seduto in atto di benedire con vesti e tiara dorate le due statue laterali sono quelle dell'abbondanza e della magnificenza detto alla tomba del papa vediamo quella del cardinale neri corsini zio di clemente xii vescovo di arezzo e titolare della basilica dei santi nereo archileo a roma la sua grande statua ha un ricco panneggio ai suoi piedi allegoria della religione un angelo che porta una croce di tipo patriarcale uscite la cappella sulla parete sinistra sopra il confessionale una lastra tombale graffita commemora gerardo bianchi cardinale di santa sabina primo arciprete dell'arci basilica nel 1302 la successiva cappella è dedicata alla dormizione della beata vergine maria ed è patronato dei conti antonelli originari di gubbio ma poi divisi in diversi rami sopra l'altare domina l'affresco dell'assunta fra i santi domenico e filippo neri opera di giovanni oddazzi e di ignaz stern che racchiude in basso un'antica tavola con la dormizione della regine risalente al secolo quattordicesimo questa si trovava nell'antico patriarchio fuori dipinta nel secolo xvi e portata in questa cappella sulla sinistra troviamo il monumento funebre del cardinale nicola antonelli con il ritratto del cardinale e l'allegoria del tempo questo cardinale studioso del mondo medio orientale raccolse una vasta biblioteca di manoscritti e alla sua morte questa biblioteca fu ereditata da nipote leonardo che nel 1775 la collocò nel galleria del palazzo panfili in piazza navona a roma poi nel 1825 secondo le volontà dello stesso nicolò la biblioteca fu trasferita a senigallia a costruire la biblioteca comunale antonelliana sulla destra invece è posto il monumento funebre del cardinale leonardo antonelli suo nipote davanti a questa tomba si trova la coppia della pietà e antonio montauti il cui originale si trova nella cripta della cappella corsini segue la tomba del notaio apostolico bernardo caracciolo morto nel 1293 la cui statua giacente si fa risalire alla scuola di arnolfo di cambio la terza cappella che oggi accoglie l'esposizione del santissimo sacramento è dedicata alla madonna delle grazie anche nota come sanseverine progettata dal milanese onorio longhi l'altare è stato ricavato da un sarcofago di un eques singulares cioè un cavaliere romano del terzo secolo alla cui base vediamo due leoni in alto sopra l'altare il crocefisso marmoreo attribuito a stefano moderno più in basso il quadro della madonna con bambino fra i santi lorenzo e sebastiano del secolo quindicesimo attribuito al perugino sulla parete di sinistra troviamo la memoria del cardinale giulio santori allievo e collaboratore del bernini sulla parete di destra è posto un monumento dedicato alla memoria degli zuavi pontifici caduti a mentana nel novembre del 1867 nella vittoriosa battaglia diretta a fermare l'avanzata di garibaldi verso roma la successiva cappella dedicata san francesco d'assisi fu voluta dal cardinale scipione lancellotti uomo di nobile famiglia romana grande giurista protagonista di diverse missioni diplomatiche presso i monarchi europei nel corso del concilio di trento l'opera fu inizialmente affidata a carlo maderno nel seicento questa però fu rimaneggiata secondo lo stile borruminiano e arricchita da preziose decorazioni a stucco di fronte a noi il bellissimo altare che sopra il prezioso tabernacolo ligno scolpito e ricoperto d'oro porta una pala ovale con le stimmete di san francesco realizzata nel settecento da giovan battista puccetti sopra l'altare un bel gruppo di angeli festanti salendo nelle volte della cupola vediamo quattro tonne in stucco sorretti da angeli con scene della vita di san francesco gli stucchi sono opera di filippo carcani allievo del bernini e dell'algardi sulla parete di sinistra la tomba del principe ottavio maria lancellotti morto nel 1862 sovrastata da una tela dedicata al salvatore tra i santi giovanni battista e l'evangelista sulla destra il sepolcro di sua moglie giuseppina massimo con sopra una tela dedicata al martirio di san giovanni nepo muceno uscendo dalla cappella sopra al confessionale vediamo la memoria del cardinale giromo casanate bibliotecario della biblioteca apostolica vaticana e fondatore della biblioteca che porta il suo nome la casa della tenze che allora contava già di 25.000 volumi la statua ritrae il cardinale in preghiera appoggiato ad un prezioso dramma un armoreo sorretto da un angelo e da due puttini l'opera è del francese pier lecou i giovani l'ultima cappella di questa narrata è quella dedicata a sant'ilario vescovo di poitiers fatto costruire nel seicento ma poi restaurato da borromini sull'altare il grande affresco con la visione della santa trinità da parte di sant'ilario opera di guillaume courtois detto il borgognone a destra dell'altare si trova la gotica tomba del cardinale pietro dura guerra da priverno decorata con lo stemma del defunto opera di giovanni di cosma riprendiamo il cammino a ritroso nella navata intermedia sinistra sui suoi pilastri in alto sono murate le lastre sepolcari diversi dignitari dell'arci basilica della corte pontificia e mebbi ti nobile famiglia sul primo pilastro a partire dal transetto vediamo la preziosa tomba di elena savelli morta nel 1570 moglie di bernardino appartenente all'illustre famiglia romana dei savelli questa tomba era in origine all'interno nei pressi della porta santa proprio con l'effigie rivolta di fianco verso di essa ma poi fu spostata qui dal borromini durante i lavori della nuova basilica essa è opera di jacobo del duca allievo di michelangelo e alla sua influenza troviamo il bellissimo profilo bronzo di elena in preghiera a seguire sugli altri pilastri vediamo le tombe del cardinale sasso del vescovo monsignor alessandro burgio del vescovo girolamo garimberti e di giovanni lanciuti termina qui la terza parte della nostra visita all'interno della basilica vi do l'appuntamento alla prossima puntata nel quale usciremo all'esterno per visitare il chiostro la facciata settentrionale con la loggia sestina la piazza con obelisco il battistero e la scala santa chiederemo anche se in maniera sintetica dedicheremo poi infine una breve descrizione del museo del palazzo lateranense realizzato nelle meravigliosi sale papali arrivederci